buongiorno a tutti sono simone dosoli di trading library con me c'è igor pretolani buongiorno igor buongiorno simone buongiorno a tutti e siamo qui per presentarvi la terza videopillola del corso guadagnare con le opzioni corso che si terrà assolutamente dal vivo in tre città a milano il 24 25 settembre a verona il 15 16 ottobre e a torino il 26 e il 27 novembre igor dopo due videopillole un po diciamo generaliste ma con un crescendo di argomenti oggi vorrei andare con te sul tecnico e chiederti perché un trader direzionale dovrebbe conoscere il mondo delle opzioni anche questa è una bellissima domanda è una bellissima domanda perché si lega le altre due ed entriamo un pochino più nel vivo della serie io sono un trader direzionale ho trovato la quadra come si dice in gergo e quindi con il mio trading sto sto guadagnando sono contento perché devo andare a rimettermi in gioco e ricominciare a studiare per imparare le opzioni mi ci sono trovato anch'io nella stessa situazione e come ormai sapete per me è stato amore a prima vista il conoscere le opzioni facevo trading già da diversi anni e alla fine ho trovato la mia la mia famosa quadra più che altro l'avevo trovata perché all'inizio quando ti approcci a questo mondo come tutte le cose come anche in amore no c'è l'innamoramento dei famosi primi tre mesi dove sei sempre lì davanti sei sempre davanti ai monitor sei ancora nell'illusione del del famoso tizio che oramai conosciamo tutti e che abbiamo visto tutti sui social appoggiato alla ferrari che diventerò ricco a quell'altro che fa trading col suo laptop con un orizzonte in spiaggia o nei posti più disparati per cui sei lì davanti tutti i giorni e e prendi delle gran sdentate tanto è inutile nascondersi dietro un dito quindi il vero il primo vero salto di qualità lo fai nel momento in cui riesci a trovare per la tua emotività perché il trading è fatto per dico il 70 per non dire una percentuale maggiore di emotività e la cosa importante è adattare la tecnica alla propria emotività quando hai trovato quella quadra lì inizi a guadagnare io l'avevo trovata dal trading direzionale avevo trovato il time frame che coincidevano con il tempo che potevo dedicargli in quei momenti avevo trovato diciamo gli stop loss che erano adeguati ai miei portafogli e quindi avevo trovato la quadra e guadagnavo diciamo praticamente costantemente era già qualche anno che guadagnavo sistematicamente poi sono arrivate le opzioni sono arrivate le opzioni e quando mi sono approcciato io al mondo delle opzioni il mercato normale diciamo era totalmente diverso non esistevano gli algoritmi il mercato era assolutamente emotivo lo si capiva che dall'altra parte c'era un istituzionale che con il suo team ovviamente che si muoveva sui mercati come me quindi con la sua emotività attraverso un buy e un sell i livelli erano assolutamente super tecnici le cifre erano quelle che quelle tonde le classiche di entrate di uscita e quindi era molto più facile guadagnare con il trading direzionale oggi per chi fa dei trading le operazioni sono moltiplicate sono moltiplicate perché come chi fa trading multi day fa molte più operazioni rispetto a 7 8 10 anni fa perché con l'avvento degli algoritmi l'emotività è stata azzerata e quindi siamo portati in giro i prezzi sono portati in giro non dall'emotività dalla cifra tonda da quel livello che dieci volte su dieci ci doveva arrivare o ci deve arrivare no oggi non è così una volta e ci portiamo dietro ancora tutte queste credenze di quel mondo che non esiste più si diceva si sale dalle scale e si scende dalla finestra oggi non è così questi sono i mercati questo è l'indice del DAX e come vedete con la stessa volatilità che c'è in una discesa c'è in una salita anzi addirittura non lo ricordo bene questo periodo qui questo è un grafico giornaliero dove questi tre giorni qui crebbe con una velocità che mi mise veramente in difficoltà perché dovetti cambiare repentinamente tutti spostare tutti i miei break even quindi non ci sono più come si suol dire i trader scusate i movimenti di una volta poi il trader direzionale ha l'opportunità ovviamente quando si entra a mercato di entrare long se ritiene dalla sua analisi che il mercato salga o short con le opzioni invece in base alla mia in base alla mia analisi iniziale ho l'opportunità chiaramente quando entro a mercato di entrare tendenzialmente diciamo così in una direzione poi però il mio stop loss non è il portare a casa la perdita come nel trading direzionale ma il mio stop loss è il punto in cui giro la mia figura quindi il punto in cui decido che la mia analisi iniziale era sbagliata e molto tranquillamente mi metto in trend quindi non solo ho l'opportunità da un'analisi sbagliata di poter azzerare la perdita ma ho l'opportunità di guadagnare quando io ho scoperto semplicemente solo questa cosa perché ripeto le opzioni sono un mondo molto vasto ma ho scoperto semplicemente questa cosa qui per me è stato un amore a prima vista non ci credevo basta ricordare basta avere la memoria molto molto corta non c'è tanto per da andare indietro per rendersi conto che i mercati al giorno d'oggi sono portati in giro soli disclusivamente da algoritmi che seguono poche logiche ma seguono semplicemente i parametri con i quali sono stati programmati questo è tanto per intenderci l'indice del DAX come dicevo prima e questa è la giornata di ieri quindi l'indice ieri del DAX questo è un grafico giornaliero dice che alle 5.30 che è il giorno di chiusura scusate è l'ora di chiusura ha chiuso il valore di 13.050 punti in realtà se io vado sul future e vado sulle candele a un'ora cosa è successo? è successo che dopo la chiusura dopo la chiusura praticamente il mercato è sceso di oltre 300 punti con una volatilità impressionante e si è andato a rimangiare tutto quello che aveva guadagnato nell'arco della giornata quindi il nostro indice quando riaprirà lunedì non riaprirà qui ma riaprirà qua giù tutti questi gap che normalmente sono tipici degli indici perché chiaramente hanno un orario diverso di chiusura rispetto ai future quindi tutti quei gap che sono sempre stati soliti degli indici se andate anche su un grafico giornaliero vedete che del future vedete che anche i future sono pieni di gap questo anni fa non succedeva questo è il mercato i mercati perché ripeto questo è un sottostante che ho preso di riferimento ma sono un po' tutti così questi sono l'enorme volatilità che sui mercati gli ultimi anni si è venuta a creare indistintamente perché se guardate un qualsiasi indice di volatilità vi renderete conto che anche quando il mercato sale la volatilità non cambia è dall'inizio dell'anno che la volatilità del DAX o dell'Eurostock insomma io per i sottostanti europei guardo il V-stock anche se il DAX ne ha una sua personale la volatilità batte sempre in 4 punti meno 4 punti più ma è sempre regolare sempre molto alta perché il mercato quella volatilità che l'indice ci dice essere stabile la sconta e ce la fa vedere nei suoi movimenti ecco perché anche se sono un trader direzionale devo assolutamente se non altro conoscere e andare a conoscere le opportunità che le opzioni mi offrono perché così capisco che posso avere dalla mia delle armi che mi permettono di proteggere i miei capitali perdere di meno e quindi avere più liquidità da sfruttare quando invece sono in vantaggio sul mercato questo è il grafico di payoff di un future siamo sempre sul DAX e come vedete il pallino rappresenta il punto esatto in cui ho deciso di vendere la linea nera è quella dello zero e siccome diciamo dalla mia analisi vorrei cercare di trarre profitto dalla discesa del sottostante il grafico di payoff me lo certifica se il sottostante scende come vedete dai numeri che si susseguono qua sulla destra man mano che scende il mio guadagno aumenta sono sopra la linea dello zero ma se la mia analisi è stata sbagliata è stata errata o semplicemente nel breve periodo in cui l'algoritmo non parte a secondi suoi parametri la mia analisi è sbagliata e quindi il prezzo sale io vado immediatamente in perdita e questa tra l'altro è una perdita limitata quindi avrò sicuramente il bravo trader ha sicuramente il suo stop loss che ha già predeterminato all'inizio bene attraverso le opzioni io non solo posso approcciare il mercato in maniera direzionale con il derivato che me lo permette in questo caso il future quindi non solo posso entrare a mercato semplicemente con le opzioni ma posso entrare a mercato se sono un trader direzionale anche attraverso il derivato in questo caso dell'indice quindi il future quindi non necessariamente per andare short devo andarci con l'opzione quindi io entro a mercato short perché per me il mercato deve scendere nel caso il mercato invece non scenda io posso andare in fase d'opera quando lo decido io a inserire il mio stop loss come vedete la linea è diventata orizzontale ho bloccato la perdita rimanendo sempre tendenzialmente ribassista e quindi nel caso mi sia segnato uno step ma non abbia ancora toccato il mio stop loss però la perdita per me inizia a essere sufficiente posso bloccarla oppure semplicemente posso fare innumerevoli operazioni come questa ad esempio e quindi cercare di guadagnare di mettermi di mettermi in una posizione di neutralità e cercare di guadagnare sia da un movimento che dall'altro del mercato perché come vedete qua non realizzato vedete che io qui sono a zero e sono praticamente specularmente dove è il pallino rosso ma nel caso in cui il mercato si muove da una parte o si muova dall'altra vedete che il non realizzato va in guadagno lo vedete no io sono sul pallino sia che il prezzo continua a scendere scusate continua a salire o continua a scendere quindi come la mia analisi iniziale io guadagno se addirittura invece il mercato è prepotentemente invertito e quindi sale in volatilità come abbiamo visto prima e ci ha proprio bucato il nostro stop loss a quel punto posso semplicemente fare un altro tipo di operazioni come questa è una è la più semplice se volete però posso assolutamente come vedete spingere di più sull'acceleratore rispetto a come come ero messo prima o meno a seconda della visione del mercato mentre un metodo per andare short oltre alla vendita ripeto del sottostante questo è un approccio più direzionalista lo posso fare attraverso l'opzione put e in tanti altri modi ripeto quindi anche se sono direzionalista e faccio della mia passione e faccio trading con passione e quindi mi piace lo voglio approfondire voglio cercare di combattere queste modifiche che i mercati hanno apportato ai movimenti alla volatilità degli ultimi anni non posso non conoscere le opzioni gli esempi che vi ho appena fatto sono gli esempi più semplici ok le mosse che si possono attuare attraverso le opzioni sono innumerevoli questi sono i più semplici però già con i più semplici e i meno profittevoli lo sottolineo avete visto come si può trasformare un'operazione sbagliata in un'operazione in cui si può trarre profitto da entrambi i movimenti che può avere il mercato il bello delle opzioni è che ci sono strategie che ci permettono di trarre guadagno profitto non solo da entrambi i movimenti che può avere il mercato e quindi quello di salire o quello di scendere ma ci sono strategie che ci permettono di portare a casa profitto anche se il mercato non si muove a proposito come dicevo prima che ci portiamo dietro vecchie diciture vecchie oramai superstizioni del passato una è anche quella in cui si dice che i mercati sostanzialmente per la maggior parte del tempo si muovono in trading range non è più così non è più così ormai da anni si muovono con volatilità poi è chiaro che se andiamo ad aprire un grafico e tiriamo una linea orizzontale di resistenza e una orizzontale di supporto ma con un arco di punti ampissimo certo ho sempre il classico movimento in swing ma parliamoci chiaro noi siamo trader che dobbiamo cercare di portare a casa un profitto costante e non in con movimenti che raggruppano 4 o 5 anni altrimenti non si guadagna mai è inutile gestire i propri soldi se ho un arco temporale di quella così importante quindi in questo corso verranno rilasciate delle tecniche anche per i direzionalisti di approccio a mercato con setup specifico di entrata attraverso una mia metodologia che però se uno fa già trading e come diciamo analisi e setup di entrata si trova già bene con le sue benissimo io gli spiegherò semplicemente come approcciarlo attraverso le opzioni anzi se durante il corso ci sarà qualcuno che fa già trading a livello direzionale con buoni risultati sarà bellissimo confrontarsi assieme servirà a tutti sulla scelta dei setup ci confronteremo vedremo analizzeremo tecnicamente con i software di graficazione quale sia il migliore anche se ripeto il miglior approccio per me è quello che su una decina di entrate ti dà almeno 6 7 entrate positive a target quello è un buon approccio indipendentemente che sia fatto in un modo o nell'altro la lettura per me quello è un buon approccio le altre 3 o 4 analisi sbagliate attraverso le tecniche che imparerete e che vi mostrerò nello specifico come gestire quelle situazioni lì vedrete che l'obiettivo è quello di imparare a gestire quelle 3 4 volte che non siamo stati bravi ad interpretare l'andamento del mercato e portarle in nostro vantaggio quindi non perdere o addirittura guadagnare alla fine lo ripeto non mi stancherò mai di ripeterlo perché per me è veramente la cosa più importante essendo un trader che mi sono fatto e formato tutto da solo so esattamente quali sono le cose che una persona le cose che servono a una persona per imparare e sicuramente la prova di un canale dove si può interagire con il relatore dove si può interagire tutti assieme è un valore aggiunto incredibile quindi dopo il corso la creazione di un canale dove tutti sarete messi all'interno un canale aperto dove potremo interagire tra di noi dove io pubblicherò operazioni che faccio sui miei conti in reale chi vorrà le potrà replicare e quindi guadagnare e sono a disposizione per qualsiasi dubbio in più ho deciso ad ognuno di voi personalmente di dedicargli un omaggio speciale e quindi insomma vi aspetto non vedo l'ora di conoscervi e ripasso la parola a Simone grazie Igor per farvi sapere che se volete conoscere questo omaggio personale che Igor Pretolani farà ad ognuno dei partecipanti di ognuna delle tre date quindi le ricordo Milano 24 e 25 settembre Berona 15 e 16 ottobre e Torino 26 e 27 novembre è sufficiente scrivere al nostro indirizzo mail servizio clienti chiocciolatradinglibrary.it un vostro riferimento e verrete contattati in modo tale da conoscere appunto questo omaggio personale e conoscere più nello specifico il programma delle due giornate perché ricordiamolo saranno due giornate di training in opzioni fatto da chi di training in opzioni ci vive e saranno due giornate di teoria e pratica insieme dove anche chi non conosce bene il mondo delle opzioni potrà sicuramente uscire con una formazione molto importante quindi Igor ti ringrazio nuovamente e ci vediamo alla prossima videopillola